Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator, bene oggi siamo qui immersi in una bellissima faggeta, vi do una live, una news dal bosco, bene oggi è il 2 luglio del 2023, siamo venuti a caccia di bollettacce, volevo mostrarvi un bellissimo ritrovamento, il Boletus Estivalis, ragazzi guardatelo qui che meraviglia, massiccio, stacchiamo, guardate qui che meraviglia, guardate qui che roba, ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e chi ne vuol sapere di più seguitemi, un abbraccio, ciao dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.